Vai, ci sono! Oddio, sto mirofono lo sento, hermano, perdono. Io mi chiamo Camilla Natali, ho 25 anni, ho fatto il 4 agosto e sono nata e cresciuta a Firenze. Sono una personal trainer e praticamente io alleno e motivo ragazze da 20 a 30 anni. È una cosa che mi dà tanta forza e mi automotiva anche in realtà perché sono un po' femminista. Ci tengo tanto che le donne comunque si sentino forti, che non abbiano paura di affrontare il mondo o le paure che comunque la vita a volte ci pone davanti. E poi sono anche una rapper e un'artista. Forza a non mollare, tu ce la puoi fare, ascolta il tuo cuore, preparati a volare. Così va bene, dobbiamo continuare? Ancora? Allora, il mio nome d'arte è Nibi e significa un'idea bianca. Mi specchia chi sono realmente, cioè il colore della mia pelle, comunque è bianco, è un po' cappuccino, però dentro la mia anima è black. Ho sempre avuto l'amore per la musica. A 22 anni poi è uscita la mia prima canzone. Prima però di questo nasco come ballerina in realtà. Sto andando troppo veloce, troppe cose? Ah, ok. Mi inizio a ballare, ballavo dentro questa crew ed ero la ragazza, diciamo, del boss della crew. Una grandissima storia d'amore con lui, poi succede e quindi finisce. e niente, vengo fatta fuori da questi. Poi è finita la relazione ha preso queste decisioni di vivere in classità. È stata una decisione molto forte per me. Diciamo, non trovo più piacere nel fare zig-zaghi. Non mi interessa, ho bisogno di... Non trovo nessuno, cioè, non trovo nessuno realmente che dopo che mi sono lasciata e che mi sappia prendere, mi sappia gestire, mi sappia coinvolgere come vorrei. Per me XNB c'è una grandissima sfida. Chissà se ci sarà la persona che davvero mi farà battere il cuore e davvero mi prenderà la testa e avrà questo onore. Alla fine siamo frottinati per brillare. Io, oddio, scusami, è il mic, lo sento. Io, oddio, scusami, è il mic, lo sento.